allora benissimo, abbiamo visto l'ultima volta che abbiamo caricato abbiamo la possibilità di caricare l'avatar workbench 263.blend e questo ci da fondamentalmente delle mesh di riferimento e un'armatura però in realtà ci da molto di più perché se noi andiamo in questo oggetto, ad esempio su questa la mesh di sopra vedete che questa mesh ha andiamo anche solo in weighted weight paint vedete che ha dei colori messi in un certo modo nel senso che ogni osso quindi vedete che se io mi sposto vedete che ha delle coloriture che dicono quanto l'osso segue la curvatura quindi vedete che questo braccio segue molto la curvatura ma quando si avvicina alla congiunzione con le altre ossa si ammorbidisce in modo tale da evitare di fare stranezze quindi questo peso, questi colori, questi weighted painting servono per controllare quanto le ossa agiscono l'una sull'altra e quindi si ottengono vari effetti se voi create dal nulla quindi andiamo in object mode ad esempio se voi create una specie di gonna quindi possiamo fare ad esempio un shift A mesh cylinder quindi questa qui è una mesh esattamente come potrebbe essere quelle mesh lì queste mesh qua vedete la stringiamo un po' facciamo in modo tale che arrivi un po' qua poi facciamo S SX stringiamo un pochino qua la teniamo su adesso era solo per darvi un'idea anche se è fatta male qui tiriamo giù no andiamo in edit tiriamo un po' giù B tiriamo un po' giù questo ecco poi facciamo CTRL R e gli aggiungiamo un bel po' di cose intermedie ecco questo potrebbe essere una specie di inizio della nostra cosa allora qui la cosa fondamentale magari se ti facciamo SX ecco qui non mi è chiaro perché faccio questa specie di cosa comunque cilindro ora vedo tutto rimanere un cilindro ora supponiamo che sia veramente un cilindro lo vediamo sempre con Weight Paint e vedete che qui oltretutto non ci sono vertici non ci sono armature infatti se io vado qua vedete che non ci sono armature mentre invece l'equivalente se facciamo Object Mode se io cliccassi invece su questa mesh sua vedete che c'è dei vertex group c'è un'armatura e c'è anche i pesi sull'armatura quindi se noi vogliamo fare in modo tale che anche il nostro oggetto abbia la stessa cosa dobbiamo fare due cose dobbiamo prima prendere l'oggetto cliccarlo e poi selezionare Shift vedete questa armatura e poi imparentarla quindi fare Ctrl P e poi possiamo mettere With Empty Groups cosa vuol dire With Empty Groups? vuol dire che selezionando il nostro oggetto qui vedete che ci sono tutti i gruppi che ci sarebbero stati anche di là quindi questa sarebbe già regata ma con dei valori cioè tutti i gruppi quindi noi per vederlo andiamo magari in Weight Paint e clicchiamo ad esempio vedete tutti i gruppi sono fatti a zero quindi come facciamo noi in realtà a metterci in realtà potremmo anche fare una cosa diversa nel senso che potremmo anche degli fare Automatic Weights che non è bello però è un inizio quindi prendiamo quello faccio questo anzi no andiamo nel nostro oggetto originale gli togliamo l'armatura ok? non è più collegata e lo ricolleghiamo quindi tasto destro e poi lo scheletro Ctrl P gli possiamo mettere Automatic Weights Automatic Weights in realtà crea un po' di pesi che però non sono perfetti non sono sicuramente quelli buoni se noi andiamo in quindi andiamo qua e andiamo in Weight Paints vedete che qui un po' di pesi li ha messi infatti se andiamo nella selezione vedete che possiamo vedere che lui ha aggiunto un po' di pesi pesature per vedere più o meno l'effetto di questi pesi automatici che ci sono c'è un modo che è quello di selezionare l'oggetto in magari andiamo in Object Mode questo e poi dovremmo andare nella Pause Mode allora per andare nel Pause Mode bisogna avere selezionato anche l'armatura questa quindi avendo selezionato l'armatura abbiamo il Pause Mode e quando siamo in Pause Mode possiamo girare quindi selezionare un osso e poi ruotare e vedete che vediamo un po' come si muove l'osso quindi quello è più o meno quello che farebbe anche in se noi vogliamo fare in modo tale che questo oggetto abbia le stesse quindi facciamo adesso CTRL Z che togliamo dal Pause Mode dobbiamo ricopiare vorremmo ricopiare i pesi che ci sono sotto perché i pesi sotto sono quelli del corpo dell'avatar e noi vogliamo che questo vestito ad esempio o se questo fosse un avatar segua fedelmente quello che farebbe il corpo originale quindi con gli stessi pesi allora abbiamo bisogno di uno strumento che ci permetta di copiare i pesi allora questo strumento è uno strumento che si trova su internet fortunatamente allora la copia dei pesi di Gaia ho visto che c'è un profondo problema perché varia da versione a versione di Blender grazie a una blogger è anche una persona che fa dei video YouTube in inglese americana ho visto che però è possibile usare questo plugin che si chiama Mesh Transfer qui abbiamo cercato anche Mesh Transfer su Blender Mesh Transfer Mesh Transfer e dovreste trovare qualcosa ve lo scrivo sotto al video ok e qui vedete che applicando questo quindi si scaricate questo programma che è un punto zip e lo installate come addon 0.2 e a questo punto quando siete nel nel vostro oggetto e magari andiamo un po' andiamo in edit ok supponiamo che voi abbiate installato quindi da user preferences install from files gli avete messo il vostro punto zip nel il vostro punto zip install from file e ce l'avete quindi si chiama leaked work Mesh Transfer lo abilitate nel momento in cui è abilitato dovrebbero comparirvi eccolo qua vedete che qui sulla destra nel menu questo di object data vi compare Mesh Transfer lo mettiamo un po' bello qua e qui gli dite allora da dove lo copiamo le mesh possiamo prendere la parte questa qua selezioniamo il non la cosa ecco selezioniamo la parte lower body si chiama quindi lower body però noi rimaniamo sul nostro oggetto cilindro che sarà per esempio la gonna e diciamo che il source object sarà il lower body e poi si fa un create vertex mapping eccolo qua e avendo fatto il create vertex mapping si può procedere a fare il trasferimento dei pesi allora facendo il trasferimento dei pesi lui cercherà di ottenere quindi eventualmente usando anche un po' di cose comunque trasferisce tutti i gruppi che ci sono nell'altro oggetto transfer weights e fa questo trasferimento ora overwrite existing eccetera quindi a questo punto lui ha cercato di fare qualche cosa di simile a quello che c'era sopra questo diciamo è un pochino meglio che il la torniamo qua m anchor left m hip left vedete che ha fatto qualcosa di un pochino più sofisticato ok adesso vabbè qui magari qui si vedrà poco sul su questo oggetto però insomma è interessante perché è un modo per trasferire i pesi da una mesh all'altra quindi nel momento in cui avete trasferito i pesi come abbiamo fatto adesso potete di nuovo esportare questo cilindro e provare a indossarlo in realtà poi ci sarebbe tutto il pezzo in cui è editato i pesi perché se si muove in maniera abnorme dovete comunque fare delle modifiche quindi noi cosa facciamo qua lo proviamo a esportare questa specie di gonnone quindi andiamo in object mode facciamo export collada abbiamo detto c e punti e qua facciamo il preset con il second life rigged esportiamo lo chiamiamo rigged gonna rigged punto dae ok e a questo punto possiamo tentare di riesportare questo signore in questa specie di gonna notate che abbiamo selezionato soltanto la gonna l'avatar originale non ci interessa è un gran che quindi andiamo nel mondo va benissimo eccoci qua eccoci qua proviamo a importare importare mesh model c abbiamo detto gonna rigged eccola qua e un po' vedete che gli skin weight ci sono quindi deve essere tutto a posto ricordiamoci però di dirgli di mettergli chiamiamolo gonna facciamo il calculate upload abbiamo la gonna quindi a questo punto se noi indossiamo questa gonna no facciamo add ok vedete che abbiamo anche la gonna questa specie di gonna che abbiamo visto che c'era quel difetto che ce ne eravamo accorti e questa gonna comunque un pochino vedete che segue le varie cose adesso in questo modo si possono fare anche delle tuniche o qualche cosa di simile che si muove col corpo vabbè ovviamente lo fate con lo smoothing che qui vedete che non l'ho fatto ma l'idea comunque spero di averla passata questo è sempre più o meno lo stesso video che faccio da un paio di mesi di anni ma tutte le volte avete visto che ad esempio questa volta abbiamo usato delle tecniche come il mesh transfer che è un software open source e direi che ha anche funzionato quindi avete messo l'avatar e gli ho aggiunto la gonna ok credo che per questo secondo video sia tutto magari poi ci vorrà un po' un addendum per i meschietti se vogliono partire con una mesh diversa per il momento ci sentiamo salve salve